... Ritorna la vittoria al Picerno in casa contro i pugliesi del San Severo. I ragazzi di Mister Lacava riescono a rimontare il doppio vantaggio degli ospiti, arrivato nei primi 12 minuti. Infatti prima D'Arienzo porta di testa su 1-0 il risultato e subito dopo, al dodicesimo, ci pensa Cipolletta, sempre di testa a battere il portiere Lucano. Ma i Lucani non si arrendono, prima dello scadere del primo tempo rientrano in partita con Esposito. La ripresa vede il Picerno attaccare, prima pareggia con un pasticcio della difesa pugliese e poi ribalta il punteggio al 34esimo, sempre con Esposito, che porta a tre le reti Lucane. Non succede più nulla ed il Picerno torna alla vittoria.